Continua il progetto 50x50, capitale al quadrato di Pesaro 2024, capitale italiana della cultura, che vede coinvolti tutti i comuni della provincia. Protagonista della settimana, dal 26 febbraio al 3 marzo, sarà Urbagna, che celebrerà la ceramica con eventi, mostre e laboratori. Il momento è importante per tutto il territorio e anche per Urbagna, per valorizzare le nostre ricchezze, per valorizzare il nostro patrimonio, sia culturale che ambientale. Urbagna non poteva non entrare all'interno della capitale italiana della cultura Pesaro 2024, senza portare la ceramica, proprio perché nel 2024 ricorrono i 500 anni della nascita di Cipirano Piccolpasso. Questa persona che mette per la prima volta nero su bianco l'arte della maiolica, della ceramica. Allora, il programma di questa settimana è incentrato, insomma, su questa valorizzazione, mostra di Fufupingo, i corsi di ceramica, ma anche il ricordo, insomma, di questo personaggio, perciò ci sarà l'inaugurazione di una targa dedicata a Cipirano Piccolpasso. E su questa figura si svilupperà tutta una serie di eventi, anche a teatro o a Palazzo Ducale. Ad attendere i cittadini, un programma costruito su misura per tutti, che oltre all'approfondimento e alla scoperta della cultura e della storia di Urbagna, mira anche ad una partecipazione che coinvolga i presenti. Un programma intenso che tocca tutti i giorni della settimana, un omaggio a Cipirano Piccolpasso, con Cittadino, ai suoi 500 anni dalla nascita. Cipirano Piccolpasso è stato un illustre fautore di quello che è il nome della ceramica Durantina nel territorio nostro, ma anche a livello internazionale. E quindi è giusto ricordarlo e cogliere l'occasione di questa settimana per dare avvio alle celebrazioni. Quindi troveremo tanti appuntamenti che riguardano il mondo della ceramica, mostre temporanee, come il ritorno a Fuping, che avremo nel cortile d'onore di Palazzo Ducale nella Sala Montefeltro. L'inaugurazione sarà il 2, insieme a un bellissimo convegno sull'arte ceramica, contemporanea e non. Poi avremo domenica 3 marzo l'orchestro Olimpia, la sera, mentre invece il pomeriggio un laboratorio all'interno dei musei civici dedicato alla Valle dei Principi, che è questa nuova sezione archeologica che dà due mesi all'interno del nostro museo. Un bellissimo aperitivo, anzi buonissimo direi, che cerca di mettere insieme tutti i sapori del nostro introterra. Il 29 sera, giovedì, portiamo alla luce un rapporto che abbiamo con l'Università La Sapienza e la Biblioteca Alessandrina di Roma, che conservano ormai da alcuni secoli quello che è il fondo di Francesco Maria II della Rovere, fondo liberario, che anticamente però era stato allestito nella Biblioteca di Casteldurante, oggi urbana. Lo stiamo ricostruendo sia dal punto di vista bibliografico che iconologico e quello sarà un modo per raccontare questo progetto e una piattaforma digitale che lo sta cercando di riattualizzare. Lunedì invece abbiamo, lunedì 26, abbiamo le porte aperte di un laboratorio per maestro ceramista che ha voluto il comune, assieme a una delle ultime botteghe che sono rimaste in città, per cercare di tramandare appunto questo mestiere che è quello della ceramica che è molto importante e ha reso urbana celebre nei secoli. Grazie.